una cantante e sopra la bella Pramigiana Paola Sanguinetti, stavamo dicendo ma sul direttore d'orchestra forse qualche appunto si potrebbe fare così? Io ho trovato una direzione molto rigida, molto dura e questo credo che abbia penalizzato tanto anche i cantanti e non aveva dato modo di poter fare colori, di poter fare sfumature. Ad esempio il terzo atto è quello più intimista, dove dovrebbe esserci un po' più l'atmosfera di questa atmosfera notturna, questa atmosfera magica, non ho sentito niente, era tutto molto spinto, molto urlato, è una questione anche di sinergia, se lavorare insieme, se manca qualche cosa, manca il posto del direttore forse sa che i cantanti poi vanno nella stessa direzione su, ok, quindi insomma si fa per dire un giudizio un po' così nel complesso velocemente e poi passo a Stefano Spagnolo Musso, che è proprio il presidente del Rotterdam, che è in tanto tempo può raggiungermi, chiudiamo con sottoprano, insomma vediamo come va a finire, però il giudizio è un po' così almeno se lo voglio sì, sì, ok vediamo però se poi le applaudono grazie grazie per la mia vita questa ragazza grazie 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 grazie